per la collaborazione più stretta tra docenti, per la ricerca, tra le due università in tutti i campi e di consegnare al progetto Difficilissimo, stanotte le 2.52, le ricaviamo Che la diplomazia è il quadro in cui si scrive la prima che mi permettono di dire che aveva già un'altra base, queste due, queste primi su tutto, ma certamente io credo che il rapporto fa un seminario o un altro io spero che il Presidente D'Antonio non ci darà questa stessa specialità che intergetti in mente Notati, colpiti da un feroce attentato Sono di straordinaria bellezza, ripeto com'è San Pietro Muro Bombe e distruggere monumenti straordinari